Il gambero rosso della Louisiana ha fatto di recente la sua comparsa sul territorio nazionale. La sua presenza però ha destato subito molto interesse ed anche qualche allarme tra i frequentatori delle acque dolci. La presenza del gambero della Louisiana non deve però sconcertare né allarmare più di tanto, anzi. Il gambero rosso, denominato killer perché in ambito alimentare non fa sconti a nessuno, essendo onnivoro e cibandosi quindi di qualsiasi cosa, la sua pericolosità però sta nel fatto che la sua elevata capacità riproduttiva ed aggressività è considerato infestante, determinando però l'estinzione o la forte sofferenza della fauna etica autoctona. Le sue carni comunque sono ricercate e pregiate, particolarmente apprezzate in ambito alimentare, tanto da essere coltivato a scopi commerciali come avviene nel lago di Massacciuccoli in provincia di Lucca. Non essendo una razza protetta e di ottimo gusto non resta altro quindi che ascoltare il consiglio del professor Picinetti, mangiarlo. Diciamo che il gambero della Louisiana sono parecchi anni che è entrato in Italia ed è stato portato in Italia. È un gambero, noi una volta ce l'avevamo il gambero, il nostro era un gambero di fiume, l'avevamo nei nostri fiumi nella zona del Nerone, ce l'avevamo in tutta la regione ed era il gambero normale che avevamo ed era anche consumato. Questo gambero per una serie di motivi, prima che veniva preso, mangiato e consumato, quindi era troppo ricercato, si è quasi estinto, ce ne sono restate poche zone dove ci sono ed è una specie protetta. Invece quello che è entrato ed è stato introdotto in Italia è questo gambero della Louisiana che è un gambero un pochino appena più piccolo, però più piccolo del gambero nostro che avevamo, che è il grosso gambero di fiume, ed è stato introdotto in Italia da tantissimi anni, lo si troviamo in particolare in Toscana, nel Modenese, ce n'è molto abbondante. Perché è stato introdotto? È stato introdotto evidentemente di qualcuno che lo voleva mangiare, perché è un gambero che si mangia, che viene consumato nei suoi luoghi di origine. Evidentemente come uno dice come possiamo fare per frenare la sua diffusione eccetera? Semplicemente mangiandolo. Se a un certo momento c'è qualcuno, siccome non è una specie protetta, è una specie che può essere pescata, uno la sorprende, la pesca, se la porta a casa la mangia. L'unico problema che cos'è? Che è un gambero di acqua dolce, quindi non ha lo stesso sapore dei gamberi di mare, quindi uno lo deve insaporire di più nella cottura. Quindi se uno fa in quel modo è il sistema migliore per evitare una grande diffusione, perché se ce ne sono pochi nessuno va a cercarli, ma se cominciano ad esserci molto abbondanti è conveniente andarli a prendere e raccogliere e dopodiché uno se li mangia tranquillamente.